La 14esima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Restiamo in tema consulenza per andare a premiare l'eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, consulenza servizi finanziari. And the winner is Yama Consulting! Un bel applauso anche per Yama Consulting! Eccoli che si apprestano a percorrere la nostra passerella e la nostra scala centrale per raggiungermi qui sul palco, mentre io leggo la motivazione, ovvero per essere da 40 anni leader di settore in grado di coniugare eccellenza operativa con una visione strategica lungimirante per posizionarsi come partner di fiducia per aziende che operano nel mondo dei servizi finanziari per fornire ai clienti soluzioni consensuali altalmente specializzate, favorendone la crescita e l'adattamento alle nuove sfide globali. Tutto questo è Yama Consulting! Complimenti a tutto il gruppo! Diamo questa sera il benvenuto alla dottoressa Alessandra Scotton, che è la Managing Director di Yama Consulting. Dottoressa, la vostra azienda da 40 anni opera nel settore dei servizi finanziari, fornendo consulenza strategica e organizzativa alle imprese. Ci racconterebbe la vostra mission e i vostri valori? Allora, per Yama Consulting la nostra mission è essere veramente dei partner di valore per i clienti, che significa fare servizi su misura, significa essere vicini a loro in un processo direi di apprendimento condiviso. Per questo credo di poter dire che i nostri valori siano l'assoluta professionalità, la correttezza, la serietà e la grande cura appunto dei clienti. Il vostro è un settore altamente competitivo, come siete riusciti ad affermarvi e cosa vi distingue rispetto ai competitor? Direi proprio la cura dei clienti, intesa come questa capacità di rinnovare sempre il nostro know-how, che come diceva giustamente lei, è più che quarantennale, cercando sempre di dare insight, affrontare le nuove sfide con competenze e conoscenze sempre rinnovate, cercando anche di raccogliere da altri settori degli spunti, dei suggerimenti, delle suggestioni. Questa sera avete ricevuto un riconoscimento importante, l'Award Le Fonti, che premia la vostra posizione di eccellenza nel settore. Cosa rappresenta per voi questo traguardo? Vorrei dire che oggi per noi è una celebrazione, oggi ci prendiamo veramente un momento per noi, per poter celebrare con i colleghi presenti, ma con tutti quelli che poi sono stasera a casa, un momento per dirci bravi, brave, perché siamo sempre molto focalizzate sul cliente, ma oggi ci prendiamo un momento per noi. Come ultima domanda parliamo dei progetti per il futuro. Quali sono gli obiettivi di Yama Consulting per i prossimi anni? Ci tengo a dire che gli obiettivi sono sempre quelli di affrontare le sfide che ci sono già e quelle che verranno con la stessa passione, con lo stesso impegno per essere vicini ai clienti. Voglio concludere dicendo anche che ringrazio le fonti per questo momento, che per noi è particolarmente di onore e anche di gioia.